Ciao, sono Teodor e probabilmente mi avrete già visto nella storia sull'apocalisse zombie e la stanza segreta. Ma le cose sono cambiate da allora e sono peggiorate. Ascoltate, voglio raccontarvi quello che ho imparato e credetemi, è davvero importante, perché ciò che temevo è già iniziato. Ho trascorso sei mesi in una clinica psichiatrica nella nostra città. Non so per cosa mi stessero curando, perché io stavo benissimo. Non mi hanno messo la camicia di forza come altri pazienti. Inoltre il mio dottore mi ha detto che stavo migliorando e che presto sarei tornato a casa. Strano, non riesco a ricordare se stessi male. Non ricordavo niente di ciò che mi era successo sei mesi prima, probabilmente a causa dei farmaci che mi somministravano. Generalmente mi sentivo bene ed ero pronto per tornare a casa dai miei genitori. Ma poi è successa una cosa. Un pomeriggio mi stavo annoiando e ho proposto ai ragazzi di giocare al nascondino. Le loro mani erano legate, per tenerli alla larga dai giochi da tavolo, ma almeno potevano nascondersi con le mani legate. Abbiamo scelto il ragazzo che doveva cercarci e poi siamo corsi a nasconderci. Io ho deciso di nascondermi in un vecchio magazzino, dove tenevano dei letti e degli armadi. Mi sono seduto dietro a una pila di materassi e ho sentito gli altri correre per la stanza in cerca di un nascondiglio. Ero muto come una tomba. Poi ho visto una porta nel pavimento. Non era facile vederla bene. Strano. Dove conduceva? Ho girato la maniglia e l'ho aperta. Sotto al pavimento c'era un'apertura semicircolare e le scale che conducevano al piano inferiore. Ho deciso di scendere per vedere cosa c'era lì sotto. Alla fine delle scale c'era un corridoio che si allontanava dall'ospedale. Ho cercato l'interruttore e ho acceso la luce fiocca del corridoio. Non ero spaventato, ero soltanto curioso. Mi sono tornati in mente alcuni ricordi. Percorso il corridoio e mi sono ritrovato in una piccola stanza con delle colonne. Era una stanza abbandonata. Sembrava che nessuno fosse mai stato lì sotto da quando l'ospedale era stato costruito. Probabilmente era un vecchio magazzino, ma ora poteva essere utilizzato come un nascondiglio segreto. E poi mi sono ricordato. La mia memoria è tornata all'istante e ho realizzato perché ero finito nella clinica psichiatrica. Ovviamente pensavo che fossi pazzo perché volevo prevenire l'apocalisse zombie. Mi sono ricordato che la compagnia farmaceutica Allerbam stava per rilasciare un pericoloso farmaco. Sì, volevo bruciare lo stabilimento e dire alle persone che cosa stava succedendo. Ho pensato a Mary e alla sua stanza segreta sotto alle scale e ovviamente avevo fallito ed ero finito lì. Ricordavo tutto. Era successo sei mesi prima. Dopo tutto questo tempo dovevo agire. Non sapevo come fosse diventato il mondo dopo che me ne ero andato e non avevo trovato il bunker in vano. Lì molte persone potevano nascondersi dagli zombie. Ho proseguito e ho visto delle porte enormi. Erano sbarrate. Ci ho messo molto per aprirle. Ho salito le scale e sono uscito all'aperto. Dietro di me c'era l'ospedale e davanti e dietro alla recinzione vedevo la nostra città. Mi sono arrampicato sulla recinzione e sono sceso in strada. Ero molto curioso di sapere che cosa era successo al mondo durante la mia assenza. Dopotutto nella clinica non c'erano i telefoni né internet. E poi ho visto un cartellone pubblicitario. Pubblicizzavo il farmaco rilasciato dalla compagnia farmaceutica Allerbam. Non poteva essere vero. Ci erano riusciti. Quante persone avevano acquistato quel farmaco e lo avevano assunto. Era pericoloso. Forse l'apocalisse zombie era già iniziata. Dovevo agire in fretta. Avevo un nascondiglio segreto e dovevo nascondere i miei cari lì sotto. Poi mi sono ricordato dei miei genitori. Speravo che non avessero preso quella roba e che stessero bene. Mi sono precipitato a casa. Quando sono arrivato era buio. Mia madre ha aperto la porta ed era molto sorpresa. Tio sei stato dimesso. Perché non ci hai chiamato? Ero così felice che stesse bene. L'ho abbracciata e gli ho detto che dovevamo andarcene subito. Ma dove? Ha chiesto. Ho detto a mia madre che avevo trovato un nascondiglio segreto dove potevamo nasconderci dall'apocalisse zombie. Nessuno conosceva quel bunker e c'era molto spazio. Saremmo stati al sicuro. Ho pensato che mia madre ne sarebbe stata felice. Invece per qualche strana ragione si è spaventata. Sì, anche io ho paura. Sbrigiamoci prima che arrivino gli zombie. L'ho afferrata per un braccio. Mia madre mi ha detto che doveva prendere alcune cose e che aveva bisogno di cinque minuti. Ho accettato, riluttante. Mentre mia madre stava prendendo le sue cose mi sono seduto davanti alla tv. Sullo schermo stava andando in onda il telegiornale e un giornalista stava dicendo che i dottori non avevano ancora trovato la cura per il virus e si stava diffondendo in tutto il mondo. Molti negozi e molte attività erano chiusi e il governo aveva chiesto ai cittadini di stare a casa e di non uscire senza mascherina. Ecco che cosa era successo mentre ero in clinica. Era iniziata l'apocalisse. Nessuno mi aveva creduto. Ma ora avevo un bunker segreto e sapevo dove nascondermi. Il tempo passava, ma mia madre non era ancora pronta. All'improvviso ho sentito una macchina avvicinarsi alla nostra casa. Chi poteva essere? Ho guardato fuori dalla finestra e ho visto un'ambulanza. I dottori della clinica stavano venendo verso casa nostra. Mi avevano trovato. A quel punto ho capito. Mamma li hai chiamati tu? Le ho chiesto spaventato. Dio sei malato e i dottori ti aiuteranno? Ha risposto ed è andata ad aprire la porta. Non potevo crederci. Mia madre non mi credeva. Voleva rimandarmi alla clinica. Ma non potevo permetterlo. Quindi mi sono precipitato in un'altra stanza e sono uscito dalla finestra. Riuscivo a sentire i passi dei dottori dietro di me. Un paio di isolati dopo mi sono fermato per recuperare il fiato. Ero triste perché mia madre non aveva compreso il pericolo. Non voleva che la salvassi. Bene, questo è il suo destino. Ho deciso. Quando sarà troppo tardi si ricorderà di me. Ma cosa avrei dovuto fare? Volevo salvare quelli che credevano in Mary guardo all'apocalisse zombie. E mi sono ricordato di Mary, la ragazza che aveva la stanza segreta sotto alle scale con cui avevo letto i fumetti sugli zombie. Lei sapeva esattamente quello che stava succedendo e sarebbe stata felice di nascondersi con me nel bunker sotto alla clinica. Senza esitare, mi sono precipitato a casa di Mary. Dalle sue finestre proveniva della luce. A casa sua c'era qualcuno. Ho bussato alla porta e ho sentito dei passi. Qualcuno mi ha guardato dallo spioncino, ma nessuno ha aperto la porta. Mary, sono io, Tiodor. Apri! Ma non ho ricevuto risposta. Ho aspettato un minuto e ho bussato di nuovo. Forse gli zombie erano già entrati in casa della ragazza e lei era in pericolo. Dovevo salvarla. Ho forzato la serratura e sono entrato. La casa era vuota. Ho controllato tutte le stanze ma non c'era nessuno. Poi mi sono ricordato della stanza segreta sotto alle scale. L'ho aperta e ho visto Mary rannicchiata in un angolo. Era spaventata. Non avere paura. Sono venuto a salvarti, le ho detto. No, lasciami stare! Ha risposto. Ho cercato di convincere la ragazza del fatto che la sua stanza segreta non era sicura e che io conoscevo un posto più sicuro. Ho afferrato il braccio di Mary e l'ho trascinata con me. Abbiamo attraversato di corsa la città e io riuscivo a pensare solo a una cosa. Come evitare gli zombie e come nasconderci nel bunker che avevo trovato. Abbiamo scavalcato la recinzione, abbiamo sceso le scale e siamo arrivate alla porta del bunker. Eravamo salvi. Ma appena siamo entrati nel rifugio ho capito che qualcosa non andava. Nell'oscurità ho visto delle figure muoversi nella stanza. Si muovevano in modo molto strano. Alcune di loro urlavano, altre colpivano le colonne. Ero spaventato a morte. Sono degli zombie! Ci hanno trovati! Ma Mary è tornata nella stanza e mi ha detto ti sbagli. Sono solo i pazienti della clinica. No, non era possibile. Ero sicuro che fossero zombie. Nessuno poteva ingannarmi. Mi sembrava che la ragazza fosse d'accordo con loro. Il mio nascondiglio segreto era stato scoperto. Ora non sapevo dove nascondermi. Avevo un mal di testa incredibile. Ho visto quelle figure scure avvicinarsi. No, non venire qui. Ho iniziato a indietreggiare, ma sono inciampato e sono caduto. Mary è corsa da me e mi ha sollevato il viso. Tio, cos'hai che non va? No, non voglio diventare uno zombie. Le ho detto e poi sono svenuto. Quando ho ripreso i sensi era mattina. Ero nella clinica, nel mio reparto. Ho provato ad alzarmi e ho capito che mi avevano legato al letto. Che cosa stava succedendo? E l'ho stato catturato o non era successo proprio niente. Forse avevo fatto un incubo. Il mio dottore è entrato, ha sorriso e ha detto Theodore, sei già sveglio? Sì. Quindi non era successo niente. Ho risposto che avevo fatto un incubo terribile sugli zombie in un bunker. Ma all'improvviso il dottore è diventato serio e mi ha detto che non era stato un incubo. Avevo davvero trovato una vecchia porta che portava un magazzino nel seminterrato. Mi ero dimenticato di chiuderla e metà dei pazienti erano dispersi per la clinica. Avevo corso per la città per tutta la notte, avevo spaventato Mary e sconvolto mia madre. Ma è iniziata l'apocalisse zombie. Ho provato a replicare. Il dottore mi ha spiegato che me lo ero immaginato e che i miei problemi mentali erano tornati. Mi avrebbero curato di nuovo. No, non di nuovo. Mi avrebbero cancellato di nuovo la memoria. Ma poi ho pensato a una cosa anche peggiore. E se ero già uno zombie? Non l'ho ancora capito. Guardatemi, svelti. Pensate che io sia normale? Non sono uno zombie. Scrivetelo nei commenti.